Di nuovo nello studio del commento in pillole, dieci righe qui all'interno del telegiornale di Telemia. Dunque nei giorni scorsi, esattamente sei giorni fa, c'è stato il Sanitadei all'Ocri, un momento importante di confronto, di considerazione, di denuncia. Il Sanitadei è ormai diventato, lo possiamo dire, un appuntamento fisso, è stato già immaginato l'appuntamento per il prossimo anno, teso a tutelare il presidio ospedaliero di Locri, unico rimasto nel comprensorio dell'Alto Ionio Reggino. Quindi bisogna dire che le iniziative hanno un loro valore. Devo dire in tutta sincerità, forse ci sono state anche occasioni per ribadire il concetto che vado ad esprimere anche in questo momento. E cioè che non penso minimamente, ma non bisogna essere geni, un po' di buonsenso, non credo che si arriverà alla chiusura dell'ospedale di Locri. È una cosa veramente molto molto improbabile, molto di più di un'ipotesi remota, un'ipotesi da non considerare proprio. Il problema però dell'ospedale di Locri è quello del suo potenziamento, perché sappiamo tutti che all'interno di questa struttura ci sono eccellenze professionali, poi i casi di mala sanità ci sono pure stati, per carità, nessuno vuole essere omertoso su alcuni punti, però il problema delle eccellenze che vanno tutelate, dei reparti che hanno funzionato e che meritano di continuare il loro impegno è un discorso che va fatto con assoluta tranquillità, ma anche con la dovuta determinazione. Ci sono medici che sono costretti a fare turni di lavoro abbastanza massacranti per garantire una continuità, per garantire l'erogazione regolare dei servizi, ma le criticità all'interno dell'ospedale ci sono, sappiamo del surplus di lavoro che devono fare i medici del pronto soccorso, ma non è solo il pronto soccorso, quindi è evidente che c'è una riorganizzazione da invocare e una rimodulazione delle attività dei reparti. Duole il cuore a pensare che si potrebbe fare molto di più e ancora non si fa, la denuncia o meglio le denunce che ci sono state in occasione del Sanità Day sono state tante e tali, è un plauso a coloro che non hanno avuto mezze parole e che aperti i severbi si hanno detto le cose che non vanno, sono intervenuti persone che hanno serissimi problemi di salute, sono intervenuti anche operatori della sanità, è una manifestazione quindi che ha una sua validità sicuramente, credo però che non basti un impegno annuale, forse sarebbe necessario se è il caso anche picchiare i pugni sui tavoli di chi decide con una certa periodicità, certo è che il presidio ospedaliero di Locri, è bello chiamarlo presidio perché dà il senso di tutela, ma questa tutela non deve essere solo concettuale o linguistica, deve essere anche reale e quindi il presidio ospedaliero di Locri merita assolutamente adeguata valorizzazione e se ci sono persone che non sanno fare il loro mestiere, vengano messe anche da parte, io dubito però che non ci siano persone che non sappiano lavorare, però se ci sono, vengano messe da parte e si lavori per la qualità, perché è quella che un utente deve, perché ha il dovere, ma ha anche il diritto di esigere, ci vediamo domani.